E' stata presentata nei giorni scorsi la Child Policy dell'Università di Camerino, entrata in vigore nel marzo 2022, fortemente voluta da tutta la governance, in particolare dalla prorettrice alle pari opportunità tutela e garanzia della persona, la professoressa Barbara Re, in collaborazione con il Cug, Comitato Unico di Garanzia, presieduto dalla professoressa Silvana Silvi. L'incontro è stato aperto dai saluti del prorettore vicario Graziano Leoni e della professoressa Silvi. Per l'occasione è stata ospite di Unicam la dottoressa Valentina Di Grazia di Save the Children in Italia, con la quale sarà avviata una collaborazione sulla tematica del Child Safeguarding. Ringrazio intanto l'Università Unicam per l'invito a partecipare a questa giornata importante, in cui si ribadisce l'importanza dei diritti di bambine e bambine, e quindi la loro tutela e protezione nei confronti, da abusi e maltrattamenti di qualsiasi tipo. Costruire sistemi di tutela e quindi degli ambienti e delle organizzazioni sicure è un prerequisito essenziale per una buona crescita, il loro sano sviluppo e anche il contribuire ad avere in futuro degli adulti sani. Grazie.